L'Andria comincia con due punti, due certezze. L'Andria è purtroppo ancora ultima in classifica per ora, però è in costante crescita. E noi i due punti li vorremmo trasformare in tre punti importanti con il Potenza perché vorremmo ricominciare il 2010, almeno così come l'abbiamo finito, nelle partite interne con la Cavese e con il Taranto, con una vittoria che ci consentirebbe di fare un bel salto in classifica e soprattutto ci darebbe la giusta spinta per ricominciare questa parte finale del campionato. L'Andria, il 3-1 per il Potenza, ovviamente non era la sua squadra ma quella che evidenziava i problemi di difesa soprattutto con i tre gol subiti in rimonta, qualche espulsione di troppo. L'Andria possiamo dire che non è ovviamente quella, ma il Potenza che squadra vi aspetta adesso? Il Potenza da due o tre mesi a questa parte sta sempre manifestando problemi societari però continua a far punti e quindi noi dobbiamo essere così umili, così attenti nel cercare di giocare con grande determinazione, sapendo di avere le possibilità di superarla ma avendo l'umiltà di comprendere che se non giochiamo a grande intensità possiamo rischiare molto. Gennaio è il mese del mercato di riparazione, ha già le idee chiare con la società rispetto a cosa intervenire, dove intervenire, se ci può dare qualche indicazione sui ruoli, non sui nomi ovviamente ma almeno sulla zona del campo? Ma noi abbiamo già affrontato questo prima dell'interruzione del campionato, la società sa comunque numericamente abbiamo bisogno di sfoltire in verità paradossalmente, però aumentare il tasso qualitativo sarà necessario perché ci aspetta una parte seconda del campionato piuttosto d'oro e noi abbiamo bisogno di aumentare il tasso della qualità della nostra squadra. Al di là dei ruoli è fondamentale che ci siano degli innesti. Per chiudere qualche precisazione sulla condizione della squadra, qualche recupero importante se c'è, la condizione Dionigi, Anaclerio? Anaclerio e sì sono recuperati al 100%, Dionigi da una decina di giorni che lavora con la squadra e questo è un altro aspetto positivo, non è sicuramente nelle migliori condizioni, adesso vedremo e valuteremo se sarà il caso anche di portarlo in panchina. Ne parlerò anche direttamente con lui, con lo staff medico e invece ci manca il nostro capitano e quindi siamo penalizzati soprattutto per l'assenza del nostro capitano, però abbiamo mostrato già in precedenza che questo gruppo sa superare tantissime difficoltà. Grazie.